Amici del Senza Fretta, se decidete di venire a Minorca, ecco quello che vi può capitare. Qui siamo la spiaggia della Cavalleria, guardate che meraviglia. E qui inizia una delle nostre tre giornate di trekking che facciamo. Ne facciamo tre veramente molto belle, tutte sui Camin de Cavai. Poi ce n'è una un po' più, chiamiamola così, da urbanizzata, dove faremo le città. Comunque una meraviglia, vedete che il gruppo, questo è un po' lo spirito, molta tranquillità. C'è un momento in cui si sta insieme, c'è un momento in cui ci si può isolare. Io di solito gestisco così i nostri trekking. Quindi se volete partecipare, scrivetemi su WhatsApp, sarà un piacere accompagnarvi a Minorca. Ciao! Grazie! Grazie!